Buongiorno a tutti, sono Achille Salvatore della classe quinta D del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie e oggi sono qui per parlarvi brevemente di Matematica dell'Asione, il libro che ho letto e recensito per la quinta edizione del premio Asimov. Partendo dall'autore, Claudio Marini è un docente di matematica in un penitenziario. Questo è fondamentale per poter comprendere gran parte delle caratteristiche delle sue lezioni. Per esempio, le lezioni non sono molto complicate perché se lo fossero non tutti potrebbero comprenderle. Oppure non sono interconnesse perché i detenuti che vengono trasferiti nel penitenziario a metà del corso devono poterlo frequentare anche senza aver partecipato alle lezioni precedenti. Proprio per questi motivi la lettura è adatta a tutti, sia a chi non conosce bene la materia, sia a chi magari legge soltanto un capitolo ogni tanto e per questo non potrebbe riuscire a seguire per bene un corso molto lungo. Parlando invece dello scopo del libro, questo è di far evadere, ovvero permettere alla mente di uscire dalla realtà e di perdersi quindi in un altro mondo, che in questo caso è quello della matematica. Per fare ciò, l'autore parte dalla realtà, perché è difficile portare qualcuno che non si sia mai approcciato alla materia direttamente nel mondo matematico. Il passaggio tra i due mondi viene perciò ammorbidito da fatti interessanti e aneddoti su importanti matematici, sparsi qua e là per tutte le lezioni. Mi sento di consigliare questo libro a chiunque si senta oppresso dal lockdown, sia perché, come dicevo prima, è adatto a tutti, ma soprattutto perché l'evasione serve proprio ad affrontare questo tipo di difficoltà. Inoltre, alla fine, c'è una sezione dedicata a tutti i libri e i film che hanno ispirato l'autore e sicuramente vi sarà utile per poter usare bene il vostro tempo. Il premio Asimov è stata una bella esperienza che rifarei sicuramente, mi ha fatto scoprire un buon libro che altrimenti probabilmente non avrei mai letto e sono molto grato per questo. Con questo video spero di aver convinto qualcuno a leggere matematica d'evasione in questo periodo oppure a partecipare alla prossima edizione del premio Asimov. Bene, il video è finito, grazie a tutti dell'attenzione.